C'è qualcosa di strano in questo disegno, non credi? Perché ci sono ancora dei punti da unire! Finiamolo! Oh, è Bugs Bunny dei Baby Looney Tunes! E arriva tra poco su Cartoonito! Scattare una foto Scoprire un indizio E il divertimento è solo all'inizio! Girare un film Giocare all'aria aperta Ce l'abbiamo fatta! Le bananas in pigiamas sono sempre una grande scoperta! Bananas in pigiamas, i nuovi episodi Da lunedì al venerdì, la mattina alle 9.25 Su Cartoonito! Cartoonito torna tra pochissimo! Non andartene! Per conquistare cima, il re scorpione ha rubato tutto il sci Costruisci i misteriosi animali leggendari E cavalcali per sconfiggere il re scorpione Colleziona tutti i nuovi animali leggendari di Lego Cima Mini figure incluse Novità dal mondo The Lego Movie Ricostruisci il camion spazzatura, mangia tutto e vola in battaglia Tante novità da The Lego Movie Oh, adoro questa canzone! È meraviglioso! Quest'anno c'è una sola parola per descrivere un evento come questo Meraviglioso! Meraviglioso! La regista di Piovono Polpette Quello è Superman! Fatboy! Meraviglioso! È meraviglioso! Questa sì che è musica! È meraviglioso! La mia canzone preferita The Lego Movie Dal 20 febbraio al cinema Crea il groviglio in questa specie di ballo Piede sul blu, mano sul giallo, sul rosso, sul verde E se non si sta in piedi si ride e si perde Tocca il tuo colore con Twister giochi e ti diverti a tutte le ore Aggrovigliati con Twister Da Aspro Scopri quanti pony ci sono da pitinare e coccolare Cerca la magica confezione Un pony più un pony esclusivo Da Asbro Presto! Ricomincia Cartonito! Questi suoni sono musica per Thomas e i suoi amici Treni Una musica sempre diversa Perché ogni viaggio è sempre una nuova avventura Ah, proprio così! E allora forza! Tutti in carrozza! Si, baste! Con i nuovi episodi di Il Trenino Thomas Dal lunedì al venerdì, il pomeriggio alle 5.20 Su Cartonito! 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 Cartonito!